Dalla mezzanotte di oggi fino alle stesse ore di domani l'Unione Sindacati di Base ha programmato uno sciopero generale di 24 ore per tutti i settori. Agitazione confermata. La manifestazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori sarà a Verona, nessun presidio in città, dove però potranno essere evidenti i disagi. A Venezia saranno infatti a rischio i trasporti e i collegamenti acquei di motoscaffi e vaporetti in centro storico e in laguna. Garantiti solo i servizi minimi previsti per legge e i collegamenti minimi con le isole. Vogliamo rimettere al centro della discussione il salario rubato da 30 anni, l'orario di lavoro estenuante, le pensioni misere e i servizi pubblici allo sfascio. Uno sciopero in cui torna protagonista quella classe lavoratrice che porta avanti questo paese da anni, dai porti ai braccianti, passando per le varie anime del pubblico impiego. Con questa mobilitazione si chiedono risposte immediate e non interlocutorie. C'è l'incognita su quale saranno le percentuali di adesione dei lavoratori. Potrebbe essere però una giornata da bollino nero per la mobilità ragunale, anche se lo sciopero, come detto, è nazionale e nulla a che vedere con l'avvertenza locale di ACTV. I disagi per gli utenti potrebbero essere pesanti, dunque armarsi di pazienza. Noi chiediamo subito che vengano alzati i stipendi e venga impedito subito di inviare armi per le guerre. Chiediamo da subito un aumento sostanziale delle buste paghe dei lavoratori e delle lavoratrici.